Grazie, buonasera a tutti e grazie a chi dalla mattinata si è trattenuto anche per il pomeriggio e buon pomeriggio ai tanti che sono arrivati. A me il compito è di introdurre il patto per il verde per come è stato interpretato a Dempoli. Innanzitutto, spiegando qual è l'obiettivo che abbiamo, fin da subito nel preparare questo intervento ho ripreso alcuni vecchi appunti, fin da subito intendo già alla fine del 2019, inizio 2020, cominciamo a ragionare del dover adempiere ad alcuni dettati normativi in termini appunto di verde. La legge 10 del 2013 ci imponeva alcune cose, ma fin da subito fu chiaro perché comunque si veniva da una stagione in cui l'amministrazione si era ripresentata alla cittadinanza per essere appunto rieletta con un programma di mandato nuovo. Fu fin da subito chiaro che il tema del verde era un tema centrale per questa amministrazione. Da qui la necessità di approcciare quell'adempimento normativo in una maniera nuova, diversa, per certi aspetti più efficace ed efficiente di come fino ad allora non fosse stato fatto. Il tema quindi centrale era il cosa fare per da un lato adempiere e dall'altro raggiungere un obiettivo. Ci siamo subito resi conto che era necessario ed è stato detto più volte stamattina un cambio di paradigma. Non era più, ed è stato ripetuto poc'anzi nelle parole dell'assessore Bellucci, non era più il tema di fare meglio la manutenzione, certo anche, e lo vedremo come, ma più che altro era cominciare a porsi di fronte al tema del verde in modo diverso. Questo ci fu fin da subito chiaro. L'abbiamo detto stamani, lo ripetevamo nelle conversazioni a margine delle presentazioni, ci siamo resi conto che è necessario un cambio di passo, un approccio culturale, per dirla con una parola importante, diverso, nuovo e al tema del verde. In questo senso abbiamo fin da subito sottolineato che era un'opera strategica di interesse pubblico realizzare il patto per il verde e fin da subito ci siamo resi conto, perché appunto l'esperienza c'era, che questo cambio di passo non potevamo farlo da soli, non era solo l'amministrazione che doveva cambiare passo, ma insieme a lei anche la cittadinanza, i cittadini, in senso lato, imprese, singoli cittadini, progettisti, professionisti appunto nel settore del governo del territorio, tutti insieme avremmo dovuto fare questo passo e quindi ci fu fin da subito chiaro che questo percorso doveva essere anche accompagnato da dei percorsi partecipativi e più tardi ne parleranno diffusamente chi li ha seguiti. Appunto stavo dicendo la legge 10 del 2013 ci dice della necessità di fare un censimento del verde, di creare un sistema informativo del verde, di creare un regolamento del verde pubblico e privato, di fare un bilancio arboreo e di fare un piano comunale del verde. Ma questo è l'adempimento normativo e sappiamo quanti e quali siano i benefici. Il patto per il verde inteso come linee guida e come attività svolta da PINAT le chiarisce meglio, le esplicita, le declina sul territorio e anche questo credo che negli interventi che mi seguiranno sarà meglio esplicitato. Però fin da subito questo approccio multiobiettivo al tema del verde ha in qualche modo reso necessario comprendere che probabilmente molte dovevano essere le competenze da mettere in campo, non soltanto le competenze tecniche, non era più un aspetto tecnicistico quello da affrontare, ma era un qualcosa che riguardava l'essenza stessa dell'organizzazione amministrativa dell'ente. In questo senso le parole le diceva l'assessore Marconcini il grande sforzo dell'amministrazione nel farci in qualche modo superare anche all'interno della stessa amministrazione quelle che erano, non parlerei di divisioni, ma piuttosto di punti di vista che sono specifici di ogni settore nel quale è organizzata normalmente un'amministrazione. Oggi, e mi fa piacere sottolinearlo, sono presenti non solo colleghi dei lavori pubblici, ma anche colleghi della scuola, dell'ufficio ambiente. Insomma, siamo in tanti ad avere in qualche modo affrontato questo argomento comprendendo che era una sfida importante per dare a questo territorio un futuro appunto sostenibile. Ecco, con quali strumenti? Lo abbiamo accennato, quindi vado un po' velocemente su questi punti. Di certo il piano strutturale intercomunale e il piano operativo comunale di cui stamattina ci ha parlato l'architetto Giovanni Parlanti, che è il progettista di questi due strumenti, sono fondamentali per questa operazione, ma in quel cambio di paradigma a cui accennavo mi pare essenziale sottolineare che le linee guida sono state approvate per prima di quando sarà adottato il piano strutturale intercomunale nelle prossime settimane e prima di quando sarà adottato il piano operativo comunale, probabilmente appunto nella primavera del 2024. Questo perché abbiamo voluto che in questa idea che viene spesso detta di un piano di settore, il piano accessorio, il piano secondario, ci fosse invece una chiara espressione di volontà politica, cioè il verde, o comunque il patto del verde, perché sennò dire il verde può sembrare una diminuzione, invece il patto del verde viene prima degli strumenti di pianificazione, diventa come dire il faro rispetto al quale certi strumenti vengono realizzati, perché come diciamo in tutte le cose a fronte di un obiettivo che si vuole raggiungere ci si dota degli strumenti giusti e ci si dota delle organizzazioni giuste, così questa amministrazione adesso vuole dotarsi di quegli strumenti che le consentano di raggiungere gli obiettivi del patto del verde, dichiarando prima appunto il loro, enunciando prima quali sono questi obiettivi. Quando e con quali risorse? Uno dei temi appunto che giustamente una pubblica amministrazione si deve porre quando si dà degli obiettivi è programmare, programmare nel senso appunto di organizzarsi anche in termini di risorse finanziarie, non solo umane, anche umane credo insomma la collega dei lavori pubblici qualcosa dirà, ma gli operai ci servono, perché per fare la manutenzione ci servono le ditte sicuramente non dovremo riavere, è tutto e cambiano, le cose cambiano, non si può pensare oggi che un'amministrazione comunale si dote di 30 giardinieri per però uno esperto, magari un agronomo, magari un operaio qualificato che possa guidare, coordinare le ditte sull'esterno serve. Ma a me preme sottolineare l'aspetto invece ora finanziario, cioè come e lo sa chi lavora nella pubblica amministrazione spesso avere idee chiare e coerenti con le programmazioni superiori sia l'elemento fondante per ottenere un finanziamento e realizzare quindi quegli obiettivi che ci si vuole dare. Noi avevamo immaginato già appunto nel 2019-2020 di muoverci in questa direzione e avevamo lavorato e lavoravamo sul Green New Deal e poi questo si è trasformato nel PNRR per quanto riguarda l'Italia, ma c'era chiaro fin dall'inizio che il tema della transizione ecologica era un tema che doveva essere affrontato e organizzato e l'amministrazione organizzarsi per raggiungere quegli obiettivi. Noi da questo punto di vista abbiamo appunto immaginato che il patto del verde potesse essere quello strumento che ci consentiva di dotarci di quelle linee guida che mettessero insieme strategie e piani, strumenti conoscitivi, regolamenti e accordi tra pubblico e privato perché appunto certamente diciamo uno degli obiettivi è quello di intercettare i finanziamenti comunitari ma va sottolineato che non tutto può essere fatto dalla pubblica amministrazione perché come vedremo e vi farò vedere poi un'immagine abbastanza esplicativa, ovviamente il verde pubblico è un pezzetto di tutto il ragionamento di un territorio e quindi è necessario trovare anche degli accordi con i privati. In questo senso anche la declinazione e l'accezione di patto nel senso di intesa, un percorso da fare insieme per raggiungere gli obiettivi di condivisione che ci siamo dati. Per fare questo ovviamente la volontà dell'amministrazione è quella proprio di condividere anche le regole, gli incontri che stiamo facendo, anche quello di oggi ci serve con gli ordini professionali perché non vorrei scordare e anzi li ringrazio per aver dato il loro patrocinio che abbiamo avuto appunto il patrocino dell'ordine dei geologi della Toscana, degli ordini degli agronomi e dell'ordine degli ingegneri se non sbaglio e degli architetti. E geometri, ecco, insomma mi pare come dire una platea importante ed è giusto come dire coinvolgerli fin dall'inizio proprio perché l'amministrazione da sola non riuscirà altrimenti a raggiungere quegli obiettivi. Qui in questa slide sono un po' riassunte le cose che stavo dicendo. Noi abbiamo sviluppato in questo senso appunto il patto per il verde si è sviluppato in tre fasi, la redazione di alcune linee guida, la seconda fase una esemplificazione di quali fossero le possibili applicazioni sul territorio di Empoli, alcuni esempi e infine una analisi e quantificazione dei benefici del verde pubblico presente e censito ad oggi nella città di Empoli. Chiaramente fanno parte, le troverete riorganizzate, credo che ne parleranno più approfonditamente l'architetto Elisa Zarello e Cristiana Favretto di PINAT, abbiamo sviluppato, hanno sviluppato nelle linee guida tutta una serie di soluzioni basate appunto sulla natura, Nature Based Solutions, che appunto abbiamo anche visto negli interventi di stamani, possono trovare una loro concreta applicazione, si tratta appunto di una volontà. Noi come pubblica amministrazione già appunto, dicevo, nel 2020 ci siamo mossi addirittura a livello di Unione dei Comuni per ottenere un finanziamento sulla qualità dell'abitare coinvolgendo appunto tutti gli undici comuni, lì il tema era appunto rigenerare aree edifici ed aree degradate per migliorarne la qualità e sostanzialmente anche su Empoli sono arrivate delle risorse per rigenerare un'area che era quella di Ponte Elisa e lo porto e lo condivido, lo socializzo con voi questo esempio perché uno degli elementi che caratterizzavano questo tipo di progetto era proprio l'approccio legato alla sostenibilità ambientale intesa appunto come riqualificazione di spazi ed aree verdi per la qualità dell'abitare, una qualità dell'abitare che nei documenti del patto per il verde viene meglio declinata. Allora scorro velocemente, ecco vi faccio vedere questa è una, noi stiamo gestendo tutte le nostre informazioni all'interno di un sistema informativo territoriale, questa è una carta del comune di Empoli che appunto su 6.295 ettari di territorio ne ha 212 di verde urbano e per le altre sostanzialmente sono aree agricole e aree boscate. voi capite bene diciamo che anche Empoli ha una quantità di patrimonio verde da gestire considerevole e per questo appunto è stato organizzato un sistema informativo territoriale che io qui scorro solo perché mi serve per arrivare un po' a una conclusione, poi credo che ne parleranno i miei colleghi, per arrivare al fatto che anche all'interno del sistema informativo territoriale stiamo gestendo anche gli scenari di rischio idraulico, in particolare quello derivante dal reticolo minore. Ora questo mi serve per sottolineare un aspetto che è stato accennato stamani dall'assessore di Prato in particolare, cioè delle funzioni delle NBS nella mitigazione del rischio idraulico perché uno dei temi che per noi è centrale è quello della salvaguardia del territorio dal rischio idraulico minore e per questo stiamo immaginando di rinnovare tutto il sistema delle opere idrauliche a difesa dell'abitato del territorio urbanizzato di Empoli e con una diciamo declinazione nuova. L'idea è quella di sfruttare questa occasione per aumentare non solo la capacità di resilienza del territorio rispetto ai cambiamenti climatici ma per aumentare la possibilità di offrire ai cittadini dei luoghi e degli spazi nuovi, fruibili e gestibili perché abbiamo capito che il verde non ha solo una funzione come dire agronomica ma proprio ha una funzione di valorizzare e qualificare l'abitare nelle città. Penso di essere andato oltre il mio tempo sì ma allora io mi fermo qui e darei la parola abbiamo in collegamento la società Elisa Azzarello grazie Alessandro e in collegamento abbiamo la società PNAT spin off dell'università di Firenze con l'architetto Elisa Azzarello e l'architetto Cristiana Fabretto. Non so se mi sentite, mi sentite? Faccio solo una piccola precisazione, io sono laureata in agraria mentre Cristiana è architetto così per precisare ma insomma c'è nessun problema. Non so se avevi finito la presentazione Daniela? Possiamo andare avanti noi? Sì, sì sì. Sì vi faccio una piccola introduzione sul lavoro che abbiamo appunto fatto per il comune di Empoli, innanzitutto vi ringrazio appunto per l'inviso a questa importante appunto manifestazione di oggi e noi siamo come diceva Daniela una società PNAT, una società multidisciplinare, praticamente una società di progettazione multidisciplinare che è composta da diverse figure. Siamo studiosi delle piante, agronomi, architetti, ingegneri e che nasciamo appunto come come spin off universitario con l'intento proprio di declinare le ricerche scientifiche che vengono portate avanti nei nostri laboratori in appunto progetti e prodotti che utilizzano le piante sia come fonte di ispirazione sia proprio per la risoluzione dei dei problemi ambientali e non solo ambientali. Eh qui siamo presenti appunto io e Cristiana eh Fabretto che facciamo parte della della società eh l'abbiamo appunto fondata insieme eh al professor Mancuso e Camilla Pandolfi e Antonio Girardi appunto siamo i soci fondatori di PNAT. Eh appunto il il lavoro che abbiamo fatto con per il comune con il comune di Empoli e per il patto del verde eh come diceva prima l'ingegnere eh ha previsto lo sviluppo in in più fasi di eh come dire uno uno studio delle strategie delle azioni ecosistemiche che eh possono essere applicate nel territorio urbano e e periurbano di di Empoli della città di Empoli. Eh quindi queste tre fasi di queste tre fasi la prima ha riguardato un vero e proprio approfondimento eh una revisione delle possibili network based solution da applicare nei nei nostri contesti urbani e periurbani eh si è trattato di una vera e propria eh redazione di di linee guida con degli approfondimenti sui servizi ecosistemici su sulle network based solution sui temi su benefici de eh dell'applicazione delle network based solution per sfruttarle al meglio e renderle appunto anche maggiormente fruibili. Eh il lavoro poi è continuato con una seconda fase che è stato uno studio più approfondito del del territorio. Eh siamo partiti proprio da da un'analisi del del territorio eh con una in pratica è stato redatto un secondo documento eh che analizza le possibili strategie ecosistemiche a livello generale del territorio per poi andare a approfondire con eh con delle aree campioni nel contesto urbano del del comune di eh di Empoli. Infine eh la terza fase è stata un vero e proprio eh lavoro sul sul calcolo dei benefici che le piante del verde apportano agli ambienti in cui viviamo. Eh sappiamo che che il verde è fondamentale per le nostre città e quindi eh pensiamo che non deve essere sottovalutata la conoscenza dei dei benefici e quindi eh la possibilità di calcolarli, di fornire delle vere e proprie stime e dei veri e propri numeri di questi benefici eh è molto importante. Questo è stato fatto su eh grazie al censimento degli alberi e degli arbusti che ci ha fornito appunto eh il comune e da qui appunto noi abbiamo calcolato i benefici eh del verde associandoli anche a ad un valore eh economico. Questo semplicemente per introdurvi diciamo il lavoro che è stato fatto in questi mesi e ora passerei la parola a Cristiana sul che vi parlerà in dettaglio del del lavoro delle prime due due fasi. Buon pomeriggio a tutti ma intanto ringrazio il comune di Empoli per organizzare così un panel eh di due giorni su questi temi. Trovo sia una cosa veramente molto bella e anche abbastanza non non da tutti i comuni per cui insomma ehm mi fa piacere essere qui. Allora eh so che oggi avete eh già discusso in mattinata, vi è già stato raccontato che cosa sono le Nature Based Solutions, che cosa significa e come funzionano. Io volevo fare un piccolo passo indietro prima di presentarvi appunto nello specifico come vi ha introdotto Elisa le tre fasi di progetto, il lavoro che abbiamo fatto per Empoli con una piccola eh introduzione al tema delle Nature Based Solutions, del perché, perché sono così così importanti e volevo darvi qualche numero per in qualche modo inquadrare quello che è quello che è il problema eh soprattutto riguardante i cambiamenti climatici e quello che le nostre città dovranno affrontare nei prossimi anni per riuscire ad affrontare al meglio questi problemi e l'uomo eh rappresenta una piccolissima parte di tutta la biomassa presente sulla Terra. Siamo veramente diciamo infinitesimali rispetto eh a tutte le altre presenze, alle piante, agli animali eccetera. Però le nostre azioni, l'impatto che noi abbiamo è molto 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 grande rispetto diciamo alla nostra presenza. Per cui se noi andiamo a vedere che occupiamo con la nostra presenza soltanto il due per cento di tutte le terre emerse ma che siamo in grado comunque di consumare quello che è il 75 per cento delle risorse globali, di generare il 70 per cento dei gas, capiamo quanto alla nostra presenza sia impattante. E soprattutto visto che siamo concentrati, viviamo principalmente in centralizzati, in centri urbani, capiamo che la battaglia per la sostenibilità globale si vince o si perde in contesto urbano, cioè direttamente negli insediamenti urbani. Ed è lì che in qualche modo le misure che dobbiamo prendere per prepararci ai prossimi cambiamenti, a tutto quello che ci aspetta, vanno prese soprattutto in ambito urbano e cittadino. Per cui, perché gli alberi, perché le piante sono così importanti in ambito urbano? Perché i benefici sono tantissimi, sono veramente tanti. Si va dall'accumulo di CO2 perché le piante appunto sono in grado di accumulare il carbonio, questi sono solamente i principali, poi ce ne sono anche tanti altri di secondari ma almeno elencare quelli principali. Mi pare una cosa utile prima di entrare poi nella fase quella più operativa delle tre fasi di progetto. Sono in grado di filtrare l'aria perché riescono a captare gli inquinanti, per cui sono dei filtri naturali praticamente sempre a disposizione che lavorano giorno e notte per noi. Migliorano la qualità estetica delle nostre città perché sono in grado di riqualificare gli spazi, ci aiutano addirittura ad orientarci all'interno dello spazio, ci aiutano a migliorare e regolare la temperatura dei nostri edifici, per cui li mantengono più freschi d'estate e li mantengono più caldi d'inverno. In molti casi possono anche produrre noci, frutta, parlo di alberi ma qualsiasi insomma le piante sono fonte di cibo per noi e sono una risorsa di netta per api ed altri insetti. Riescono a svolgere un ruolo importantissimo nel ciclo dell'acqua, cosa che vediamo sempre un problema più diffuso in tutta Italia e non solo perché riescono a intercettare le precipitazioni e regolano praticamente naturalmente i flussi di acqua nel suolo. In più aumentano la biodiversità, si parla anche tanto di urban rewilding, per cui di rinselvaticamento tra virgolette delle città ed è la presenza proprio di un maggior numero di specie vegetali che in qualche modo ospita anche una biodiversità che diventa quasi una biodiversità urbana e in più ci aiutano anche, ci fanno stare meglio perché ci aiutano a diminuire i tempi di recupero dalla malattia, ci aiutano a ridurre lo stress e migliorano in generale il benessere psicofisico delle persone. Per cui diciamo questi solo sono già così elencando solo i principali dei motivi importanti ed essenziali per cambiare quello che è diciamo la visione che noi abbiamo delle piante all'interno della città. Prima veniva detto giustamente che bisogna cambiare il paradigma, la percezione che la pianta non è un elemento accessorio e che necessita solamente di manutenzione ma non dà niente in cambio, ma anzi è invece un elemento importantissimo che deve essere visto non solo come un elemento che necessita cure ma un elemento che dà dei benefici anche economici. Allora, come diceva Elisa, noi abbiamo strutturato il lavoro in tre fasi. Il primo si chiama linee guida alla progettazione di Nature Bay Solution ed è praticamente raccolto in un volume che abbiamo compilato in cui abbiamo messo insieme, abbiamo fatto uno stato dell'arte di tutte le Nature Bay Solution che noi consideriamo importanti, insomma le principali Nature Bay Solution da applicare alla scala urbana e alla scala diciamo di quartiere che si definiscono diciamo per alcune caratteristiche cioè le Nature Bay Solution sono innanzitutto delle soluzioni basate sulla natura che portano proprio la natura in ambiti fortemente antropizzati e sono soluzioni che ispirandosi ad essa includono di fatto degli ecosistemi naturali complessi per cui hanno una capacità di evolversi maggiore perché sono più resilienti ai cambiamenti. In più sono una risposta globale ai cambiamenti climatici però sono adattabili ai contesti locali per cui in qualche modo si declinano poi alle singole caratteristiche di una singola area. Sono di fatto uno strumento poliedrico perché riescono a risolvere, sono multitasking, riescono a risolvere molti problemi diciamo con una soluzione unica per cui dall'ambito ambientale all'ambito sociale all'ambito economico e sono naturalmente più efficienti delle soluzioni tradizionali perché utilizzano come fa la natura le risorse in modo decisamente più economico e massimizzando quello che è tra virgolette l'investimento. I benefici che ne derivano sono democratici per cui sono a vantaggio di tutti e non generano generalmente disparità però favoriscono quella che è la coesione sociale e la collaborazione. Per cui noi abbiamo fatto questa raccolta di Nature Based Solutions che abbiamo praticamente suddiviso a famiglie per cui abbiamo tutte queste famiglie però l'importante era riuscire a capire come andare ad applicarle, come vado ad applicarle in ambito urbano, tutte queste Nature Based Solutions. Noi ci siamo un po' inventati un sistema di catalogazione con la speranza che possa essere di aiuto soprattutto ai professionisti o a chi insomma vuole adottare una soluzione di questo tipo all'interno dello spazio in cui vive o dove abita o insomma all'interno dello spazio urbano. Le abbiamo suddivise per macro temi ovvero aria, acqua, suolo, cibo, benessere, comfort, biodiversità, vivibilità ed economia. Per cui questi gruppi di famiglie di fatto sono afferenti a dei macro temi e vanno a dare dei benefici in più diciamo o in una singola o in più aree assieme, in più macro temi. Ecco questo è diciamo è l'abaco dei temi e dei benefici afferenti per cui ogni macro tema ha dei singoli benefici e le pagine noi abbiamo creato, scusate, sì, abbiamo creato, poi abbiamo spiegato quelli che sono questi macro temi andandogli a dare proprio un contesto e andando a definire quelli che sono i singoli benefici per cui poi siamo andati a creare delle singole schede trasformando questa pubblicazione chiamiamo in un vero e proprio strumento di lavoro perché alla fine diciamo è la capacità secondo me di questo strumento è di essere diciamo molto pratica e trasversale per cui alla portata di tutti, può essere usata sia dal professionista che dall'amministrazione pubblica che dal singolo cittadino che di qualche modo trova qui anche delle linee guida semplici per poter mettere in pratica poi delle natural base solution anche in modo completamente autonomo. Per cui c'è diciamo nella singola pagina, nella singola scheda noi troviamo la natural base solution con la con la spiegazione, la lista delle piante vegetali che chiaramente è generica e non esaustiva ma dà già un'idea e poi chiaramente va declinata per ogni singola area dove si va a posizionare. Ci sono anche dei KPI cioè praticamente degli indicatori di performance per capire come quantificare a lavoro finito i benefici che andiamo ad ottenere vado di qui e poi praticamente queste schede un po' più dettagliate rappresentano proprio delle vere e proprie vademecum su come realizzarle per cui ho la tipologia di NBS delle indicazioni progettuali e tecniche, un piccolo capitolo sugli aspetti manutentivi che riguardano questa natural base solution, il box dei benefici che si possono ottenere con questa, con l'applicazione di questa, come dicevo la lista delle piante qui è un po' più esaustiva e un'immagine esempio di un KPI pilota, un caso diciamo studio che in qualche modo già dà indicazione di come può avvenire alla fine la tipologia di questa applicazione di natural base solution. Per cui diciamo il lavoro è stato fatto su tutte le natural base solution e diventa proprio uno strumento che sia come progettista che come singolo cittadino che come amministrazione diventa una sorta di manuale che io posso prendere e andare a capire quali sono a seconda dei benefici che voglio ottenere, quali sono le natural base solution che mi aiutano di più a risolvere un singolo problema o per migliorare diciamo un'area specifica della mia città. Nel secondo invece, nella seconda parte della pubblicazione, abbiamo strategie e azioni ecosistemiche, natural base solution per il comune di Empoli. Qui è stato fatto invece un lavoro completamente diverso, nel senso che se prima abbiamo raccolto uno stato dell'arte delle natural base solution, in questa seconda pubblicazione abbiamo invece lavorato proprio calandoci all'interno del territorio di Empoli, dando dei suggerimenti, delle strategie, delle tattiche per poter affrontare una progettazione più approfondita. Per cui, allora, questa è la seconda parte. Allora, qui abbiamo praticamente di fatto unito quelle che sono le nostre competenze botaniche, architettoniche, urbanistiche per definire appunto una serie di obiettivi, una serie di intenti, in modo rivolti proprio a delle azioni di riqualificazione urbana e territoriale grazie alle piante, grazie al verde. Per cui, diciamo, ci siamo mossi in due direzioni principali. Prima abbiamo cercato di trovare delle macroazioni che fossero importanti proprio a livello territoriale, che comprendessero il comune di Empoli, però anche che lo mettessero in comunicazione anche con le aree circostanti. Sappiamo benissimo che la natura non ha confini, non legge quello che è il confine comunale, per cui ci siamo anche slegati da questa conformazione geografica, che a volte è un po' limita, ma abbiamo cercato di capire quali erano i corridoi ecologici principali, quali erano, diciamo, la conformazione del territorio di Empoli, ma anche dove si trovava, cioè quali sono le caratteristiche di ciò che circonda il territorio di Empoli. Perché abbiamo creato, abbiamo, diciamo, pensato a cinque azioni, cinque macroazioni per il territorio, che una, appunto, è il rafforzamento dei corridoi ecologici esistenti, la continuità delle matrici naturali, il potenziamento delle aree umide, la mitigazione infrastrutturale e, alla fine, diciamo, una sorta di agopuntura proprio in ambito urbano, che è quello legato alla microregolazione. Allora, facendovi un po' un piccolo riassunto su queste cinque azioni principali, nella prima parte il rafforzamento dei corridoi ecologici fluviali esistenti, noi praticamente abbiamo cercato di mettere in rafforzare quella che è la connessione tra i territori naturali e quelli antropizzati. E il percorso fluviale, che di fatto naturalmente supera gli ostacoli fisici, che di solito frammentano il territorio, sono, diciamo, azioni forti che favoriscono molto la biodiversità. Il comune di Empoli è particolarmente fortunato perché si trova circondato da percorsi fluviali, anche importanti, insomma, c'è l'Arno, c'è l'Elsa, c'è l'Orme, c'è una configurazione, tra virgolette, molto fortunata e questi tre elementi, chiaramente, vanno rafforzati perché il corridoio ecologico rappresenta quello fiullare, rappresenta un'occasione unica per poter superare, appunto, naturalmente gli ostacoli. Abbiamo anche cercato quelle che sono delle matrici naturali, in modo tale da cercare di unirle, creare, appunto, una continuità, anche qui nel verde, quello più naturale, che si trova, appunto, nella parte più, è la seconda mappa, nella parte più in basso, per cui è una strategia, appunto, volta a integrare le zone già presenti di verde con quelle, magari, che si trovano per qualche motivo vicine, però staccate, in modo da dare una continuità e che la biodiversità trovi una sorta di elemento continuo in cui potersi muovere, no? Questa è la cosa più importante, non essere relegata ad una singola, diciamo, matrice, ma potersi muovere, per cui, ad esempio, ci sono delle pratiche come l'inserimento di zone buffer, delle zone cuscinetto, che permettono, poi, no? Di poter, ad esempio, unire due aree che adesso si trovano, diciamo, sconnesse dal punto di vista ecologico, parlo. Poi c'è il potenziamento delle aree umide, anche in questo caso il territorio di Empoli è fortunato perché presenta, diciamo, delle aree umide vicino, che sono, diciamo, delle zone naturalmente ricche di biodiversità sia terrestre che acquatica e forniscono una serie di grandissimi benefici ambientali, come, ad esempio, la depurazione delle acque, la riduzione del rischio idraulico e il sequestro di carbonio. Sono zone importantissime anche dal punto di vista della biodiversità perché aiutano a rendere durevoli gli habitat vicini, nel senso che rappresentano anche nei momenti di grande siccità. Adesso ci stiamo abituando un po' a queste estati sempre più calde, con periodi in cui non piove, diciamo, molto prolungati, e queste aree sono fondamentali per permettere alla biodiversità di avere, diciamo, un approvvigionamento all'acqua. Poi c'è la mitigazione infrastrutturale che è appunto il posizionamento della vegetazione lungo le infrastrutture che è una strategia di mitigazione, diciamo, efficiente, molto utilizzata, che riesce a ridurre la concentrazione di anidide carboniche e di inquinanti atmosferici e infine, appunto, come dicevo prima, questa microregolazione dell'ambiente urbano che consiste appunto nell'inserimento e nell'utilizzo di Nature Base Solution a livello urbano proprio per aiutare la città a superare tutta una serie di problematiche che si trova ad affrontare come ad esempio la regolazione delle acque o le isole di calore. Tutti questi interventi aiutano a rendere più resiliente diciamo quello che è quello che è praticamente l'ambiente urbano in tutte le stagioni dell'anno. qui abbiamo successivamente oltre alle, diciamo, sei azioni principali siamo andati a lavorare trovando quelle che sono appunto delle sei zone sei aree pilota chiamiamole così zone pilota perché sono delle aree abbastanza grandi in cui abbiamo posizionato in cui siamo andati a calare sia le strategie generali cioè queste macro azioni sia siamo andati a lavorare andando a dare come delle visioni su quello che può essere diciamo il risultato dell'utilizzo di macro di Nature Base Solution e di appunto queste strategie più a larga scala. per cui siamo andati a lavorare appunto in queste sei zone andando a calare direttamente nel territorio ma non abbiamo creato diciamo non è che siamo andati a fare una progettazione specifica l'idea è che questo diventasse proprio uno strumento per la progettazione nel senso non vuole essere un limite alla progettazione dando diciamo delle direzioni specifiche però vuole dare delle tattiche vuole dare delle strategie delle visioni in modo tale che ci possano essere diciamo così delle visioni che diventano un obiettivo ma che poi devono di fatto avere il medium della progettazione per arrivare al compimento per cui qui poi saranno i progettisti o l'amministrazione chi interverrà in queste aree a prendere tutto quello che è stato fatto finora e a portarlo e a trasformarlo poi in un progetto vero e proprio. ecco qui invece siamo nell'ultima parte che è appunto la parte di cui vi parlerà Elisa che è la parte relativa ai benefici del verde urbano in termini proprio diciamo di dati che siamo riusciti ad avere dal censimento degli alberi della città di Empoli. Sì eccomi eh sì come già già appunto questa è la terza fase come già detto appunto precedentemente anche da da Cristiana eh abbiamo appunto già ribadito che le piante giocano un ruolo primario nella lotta ai cambiamenti climatici producendo proprio degli effetti concreti per migliorare la qualità dell'aria e spesso questo questo diciamo questo questa importanza non viene eh percepita e quindi cosa vogliamo fare eh abbiamo voluto fare con quest'ultima pubblicazione cioè vogliamo eh ribaltare questa percezione calcolando proprio stimando sulla base del numero dei eh degli alberi e sulla tipologia appunto degli alberi e degli arbusti sulla loro tipologia eh presenti nel comune di Empoli eh grazie al al censimento proprio che è stato fatto eh in questi ultimi mesi eh appunto l'idea è proprio quella di calcolare questi benefici in termini di stoccaggio della CO2 e della nidide carbonica eh di rimozione degli inquinanti aerei di riduzione del riuscellamento del eh delle acque ma anche eh poi di eh appunto trasformarle in un valore economico no? che è che è molto più spendibile anche quindi eh che ribadisce l'importanza eh della presenza del verde in ambiente eh urbano eh quindi eh ecco appunto con i dati forniti dal censimento oltre a calcolare il i benefici del del verde presente nella città di Empoli eh abbiamo anche diciamo suddiviso eh ad esempio come vedete la la le diverse tipologie di verde quindi si ritrova nel territorio un 44% di verde in forma di parchi e vigli urbani seguite da eh appunto il 17% di verde come red urbano verde stradale eccetera e quindi vedete qui che è stato proprio eh analizzato le varie percentuali eh di delle varie tipologie giri verdi presenti nel territorio poi è stato fatto eh lo stesso tipo eh di lavoro valutando proprio il suddividendo eh il le diverse specie il numero di alberi eh delle diverse specie censite e anche appunto il numero di eh di arbusti e le diverse appunto specie di arbuste censite da qui eh come si vede da da questi schemi riportati nella nella terza pubblicazione eh si 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 può eh appunto facilmente vedere quali sono le specie più rappresentate nel territorio eh ad esempio ora qui probabilmente non si vede bene però il cipresso il pino domestico e e seguito poi seguiti poi da mi sembra gli aceri i lecci e i tigli sono le specie più rappresentate eh mentre tra gli arbusti è stato fatto lo stesso eh tipo di valutazione e eh le specie più rappresentative sono l'alloro l'oleandro il il viburno eh per quanto riguarda gli arbusti si parla di più di 10.000 appunto piante arbustive sparse eh nel territorio a formare quasi nove chilometri di di siepi appunto con una eh presenza significativa soprattutto di alloro oleandro e e viburno questo è stato diciamo l'inizio del della pubblicazione per eh come dire per dare un eh una visualizzazione anche del tipo di verde eh di alberi arbusti presenti nel territorio eh l'obiettivo però del del capitolo era quello appunto di eh fornire una stima dei benefici di di eh di questo di questo verde ed è stato eh fatto grazie a eh l'utilizzo del di un'applicazione del software i3 che è un software che praticamente eh mh in pratica riesce a valutare le caratteristiche delle delle specie arboree arbustive mettendoli in relazione alle condizioni climatiche del della zona le condizioni climatiche ambientali della zona eh appunto che stiamo andando a valutare in pratica in pratica è un è un modello per svolgere queste io non so se se mi sentite ok grazie ehm per poter svolgere queste analisi chiaramente c'è bisogno di alcune informazioni che sono dei dati specifici come il diametro del tronco l'altezza delle piante la le condizioni della chiama degli alberi e insomma il più possibile eh più possibili informazioni che inserite nel nel software nell'applicazione eh fanno sì che poi appunto abbiamo questo questa stima di di questi calcoli ehm scusate però io sento eh probabilmente qualcuno al telefono che ha un microfono aperto provo ad andare avanti comunque eh modellando il appunto questo progetto di eh questi censimenti degli alberi degli arbusti di Empoli eh siamo andati quindi a calcolare lo stoccaggio della nidide carbonica che è stato poi suddiviso per specie eh vegetali presenti nel territorio eh sia arboriche eh arbustive e eh siamo arrivati a calcolare che eh il patrimonio arboreo arbustivo fino ad ora ha stoccato circa novemila tonnellate di eh anidide carbonica eh per quanto invece poi lo stesso è stato fatto il software ci dà un risultato anche per quanto riguarda la rimozione degli inquinanti atmosferici eh sappiamo appunto che è già stato detto che le piante hanno la capacità di catturare eh ad esempio il particolare atmosferico o comunque di eh catturare e assorbire alcuni gas e alcuni inquinanti gassosi e eh l'analisi su appunto le la vegetazione del comune di Empoli eh ci ha riportato che eh gli alberi sono capaci di eh diciamo di catturare circa duemila tonnellate l'anno di inquinanti atmosferici eh come appunto eh vedete hanno due fiamme due cinque so due e ci ho eh come somma di questi inquinanti atmosferici lo stesso è stato fatto poi per la riduzione del ruscellamento grazie appunto all'intercettazione dell'acqua piovana e grazie appunto alla chiama degli alberi e questi regolano in maniera diciamo più efficiente il flusso di acqua verso il suolo poi l'apparato radicale eh contribuisce eh a diciamo ad assorbire eh l'acqua ma anche a eh regolare la struttura del suolo aiutando appunto nella gestione del ruscellamento delle acque e i risultati delle nostre analisi ci indicano che le piante del comune di Empoli eh contribuiscono a ridurre circa duemila metri cubo l'anno metri cubi l'anno del deflusso delle acque eh questi benefici poi eh sono stati a associate dei valori economici e eh per fornire eh diciamo questa eh questa stima che eh ci sembra eh diciamo ancora più eh eh impattante no? Perché noi eh diciamo sì che eh si rimuovono duemila chili l'anno di inquinanti però se si associano a un valore economico questo eh sicuramente è più impattante rispetto eh ad un a numero di chili e quindi eh abbiamo questi benefici sono stati associati a a dei valori economici e ad esempio per calcolare il il valore della stoccaggio della CO2 è stato utilizzato il costo sociale del carbonio che che ha dato come risparmio come beneficio economico eh circa quattrocentomila euro che vengono appunto ehm risparmiati eh con eh la presenza degli alberi censiti eh nel comune di Empoli lo stesso è stato fatto con appunto le acque eh meteo l'intercettazione delle acque che fanno risparmiare circa cinque mila euro eh all'anno e eh la rimozione degli inquinanti circa dieci mila euro l'anno e questo appunto ci sembra un elemento come dicevo eh eh fondamentale eh per far capire sia all'amministrazione che eh alla popolazione quanto eh è importante il io non so se mi sentite perché ora mi stanno ah scusate no mi dicono di concludere velocemente perché non ci siamo con i tempi comunque ho concluso cioè semplicemente eh per dirvi eh che eh abbiamo concluso la la il il lavoro calcolando i benefici stimando i benefici eh da un punto di vista economico eh del del patrimonio arboreo di eh di Empoli alla pubblicazione poi sono state anche aggiunti eh i risultati dei dei benefici che saranno prodotti dalla messa a dimora di di nuove piante di nuovi alberi grazie ai progetti eh per esempio grazie al progetto Toscana Carbon Neutral eh che il comune di Empoli ha avvinto e eh riportando sia le aree di intervento della messa a dimora dei nuovi alberi sia i relativi benefici che eh saranno prodotti da questi alberi per i prossimi trent'anni ecco concludo così penso di essere stata nei nei tempi e non so che devo ripassare la parola noi ringraziamo moltissimo la società Appinatti il team che grazie a voi grazie con queste pubblicazioni appunto ci aiuta a diffondere la conoscenza sulle Nature Business Solution abbiamo visto appunto con la prima pubblicazione che possono essere attuate a varie scale quindi anche a scala di edificio a scala di quartiere e l'ultima che traduce in benefici economici quindi di forte impatto vi volevo dire che queste pubblicazioni le trovate sul nostro sito quindi nel sito istituzionale del comune in home page abbiamo messo un logo il patto del verde lì cliccando ci sono tutti i contenuti un po' del percorso fatto anche quello partecipativo e tutte e tre le pubblicazioni non abbiamo fatto tante stampe proprio per evitare appunto di sprecare carta per cui vi invito a consultarle chiaramente questo è frutto di un lavoro intersettoriale e qui infatti con noi abbiamo la dirigente del settore lavori pubblici e patrimonio che si è occupato proprio dell'aggiornamento del censimento e anche del piano di gestione poi del verde e delle aree pubbliche che è fondamentale insomma di cui ci parlerà quindi lascio la parola all'ingegnere Roberta Scardigli del settore lavori pubblici e patrimonio buonasera a tutti io inizialmente volevo riallacciarmi un attimo al discorso introduttivo dell'assessore e delle parole dell'assessore Bellucci che non è potuto essere qui oggi proprio per spiegare quanto il lavoro fatto dagli uffici diciamo da un lato lavori pubblici dall'altro ambiente in questi anni perché si tratta di un lavoro che è partito anni fa due tre anni fa ha proprio modificato il modo di approcciarsi a questo argomento l'ufficio di cui sono dirigente si occupava di manutenzione si occupa tuttora di manutenzione ma quando siamo partiti a parlare di patto del verde la manutenzione era vista davvero come una semplice potatura o un taglio dei cespugli lungo strada ma non vista a tutto tondo non come un'unica visione che riguardava non solo la parte degli spazi pubblici dei giardini ma che doveva essere affrontata anche dal punto di vista di edilizia edilizia privata e pubblica quindi il tutto è partito con il progetto che è stato appena descritto ma necessitava in parallelo anche di un'analisi di quello che era il patrimonio arboreo del comune di Empoli perché senza conoscere quello che abbiamo è un po' difficile gestirlo e quindi siamo ripartiti siamo partiti da una norma che prevedeva che i comuni si dotassero di un censimento ci si poteva fermare al livello 2 quindi a individuare quelle che sono le aree verdi censite del territorio comunale e individuare quelle che erano le alberature di alto fusto non ci siamo fermati qui perché parlando appunto di patto del verde in in un ambito più vasto abbiamo analizzato anche quello che è chiamato dalla norma a livello 3 quindi abbiamo censito quelli che sono le siepi gli arbusti gli arredi urbani e tutto ciò che è verde quindi anche le aiole sparti traffico o qualunque zona potesse essere individuata e potesse essere poi gestita e manutenuta in un certo modo quindi siamo partiti appunto dalla prima fase del censimento che era quella di riprendere quello che avevamo perché nel 2017 era stato fatto un primo censimento e ripartendo da quello lo abbiamo prima di tutto confrontato con i dati catastali per capire quante aree di proprietà comunale mancavano da quel censimento e quindi se erano rimaste fuori aree oltre chiaramente a non aver censito tutte le alberature presenti quindi a quel punto una volta individuato tramite appunto i dati catastali tutte quelle che erano le aree di proprietà comunale tramite sopralluoghi tramite quindi rilievi sul campo è stato diciamo censito tutto quello che era il patrimonio in termini di superfici e poi in una seconda fase superficie per superficie è stato individuato e catalogato tutto quello che era l'arbusto il cespuglio piuttosto che l'albero d'alto fusto i risultati li vedete sono abbastanza alti per una città che come primo impatto non sembra così verde ma che in realtà di area verde ne ha tante sono circa 8.000 gli alberi che oggi sono presenti sul territorio comunale e circa 100 ettari di verde di proprietà comunale a quel punto i tecnici che hanno seguito il censimento hanno creato pianta per pianta una scheda quindi hanno individuato tutti dei dati seguendo le linee guide del decreto ministeriale e quindi andando a codificare pianta per pianta quello che abbiamo fatto rispetto al 2017 è chiaramente utilizzare strumenti informatici e tecnologici che oggi sono diciamo a facile portata e di facile utilizzo e quindi tutto ciò che veniva schedato poi veniva riportato sul sistema GIS che il comune ha e sul quale non solo possiamo trovare i dati del verde ma qualunque altro dato del territorio quindi in un unico contenitore che è questo grande strumento che è il GIS oggi l'amministrazione ha la possibilità zona per zona giardino per giardino punto per punto albero per albero la possibilità in ogni momento di andare cliccare e avere la scheda di quella pianta scheda che non solo contiene dati geometrici il diametro l'altezza l'età della pianta ma va oltre quindi perché non solo è stato rilevato in termini numerici cioè questo è l'albero numero 5 e ha queste caratteristiche geometriche ma è stato fatto un passo aggiuntivo cioè è stato fatto un'analisi dell'albero e quindi un dato importante che viene inserito nella scheda è la classe di rischio di cui vi parlerò subito dopo ma ecco è un elemento importante per poi lavorare sul verde perché avere 8 mila alberi come patrimonio comunale e non sapere poi su quale per primo intervenire chiaramente diventa difficile poi gestire gli interventi di manutenzione questa quindi infine la quarta fase era la restituzione e l'elaborazione del censimento quindi sul GIS e questa è un'immagine appunto che ci fa vedere il dettaglio di come possiamo oggi individuare le aree verdi e una cosa che ci permette questo strumento è chiaramente un aggiornamento costante perché il verde non è un edificio che rimane lì una volta finito e collaudato e rimane con quelli caratteristiche ma è in continuo cambiamento perché ogni anno una pianta può seccare dovrà essere abbattuta o avere problemi di stabilità ma parallelamente ne possono essere in altre zone reinnestate forse anche di più di quelle che vengono tolte e quindi è un continuo cambiamento il censimento è in continuo cambiamento e c'era necessità di avere uno strumento facile che ci consentisse di aggiornarlo passo passo quindi abbiamo chiaramente dato la possibilità della sola consultazione la possibilità di modifica di alcune voci che viene data di solito alle ditte che effettuano gli interventi di manutenzione perché possano registrare che tipo di intervento è stato fatto su quella pianta e quando dalla potatura da un intervento di rinforzo da un innesto nuovo e poi chiaramente l'applicazione completa che è quella dell'ufficio che in ogni momento può inserire nuovi progetti nuove attività nuove aree realizzate si parlava di rischio ecco il rischio è stato poi valutato dai tecnici che hanno seguito il censimento in maniera dettagliata sugli alberi di proprietà comunale rischio che appunto si basa su due fattori fondamentali uno sono le caratteristiche chiaramente della pianta perché la pianta ha in sé un rischio porta con sé un rischio che è dovuto alla caratteristica geometrica della pianta quindi dall'eventuale inclinazione dalla ramificazione dall'età e questi si trovano diciamo in orizzontale e danno una certa scala di rischio ma questa deve essere combinata ed è fondamentale questa combinazione con le aree dove le piante sono presenti perché una pianta inclinata in un giardino di una scuola piuttosto che in un parco giochi dove c'è un'alta frequentazione di persone piuttosto che in un viale con alto traffico chiaramente ha un rischio diverso da una pianta che è inclinata in un bosco dove difficilmente ci si trova a giocare o a fare attività o passare sicuramente perché non ci sono viabilità quindi queste due funzioni questi due fattori combinate insieme danno un livello di rischio quindi ad ogni alberatura censita è stata data un livello di rischio i livelli di rischio da normativa sono quattro e chiaramente in base al livello di rischio che viene dato parallelamente viene anche stabilito che cosa fare per quelle piante che sono ad alto rischio che dipenderanno appunto da quale fattore porta a essere inserita nel cosiddetto livello rosso di alto rischio può essere che serva una manutenzione più accurata e più volte l'anno può essere che debbano essere fatte analisi più approfondite sulla stabilità della pianta e quindi da una da questa classificazione che va di pari passo al censimento e che è stato inserito all'interno della scheda di ogni alberatura porta appunto ad una mappatura di quelle che sono la classificazione delle 8000 alberature presenti sul territorio comunale chiaramente sono quattro classi può all'interno di ogni classe nella descrizione del perché è stato dato quel rischio sarà spiegato nel piano della gestione che cosa vuol dire quel rosso che cosa fare con quanto intervallo di tempo controllare la pianta quindi poi all'interno di una singola classe non è che tutte le piante sono proprio uguali però chiaramente una classificazione deve essere fatta e seguendo la norma siamo riusciti appunto a catalogare e a classificare tutto il nostro patrimonio né all'interno di quello che viene chiamato piano di manutenzione e gestione del verde che è stata la conseguenza poi del censimento c'è non solo il piano ma abbiamo una linea guida sulle potature da fare dei cronoprogrammi sugli interventi da portare avanti delle voci di capitolato da inserire nelle gare di appalto che andiamo a fare ogni anno in termini di manutenzione del verde e importante sono state individuate anche i siti dove è bene concentrare la nostra attenzione su dove innestare nuove alberature giusto per fare un esempio di quello che poi l'ufficio ha portato avanti grazie a questi strumenti di cui ci siamo dotati è un piano di manutenzione per l'anno 2023 che si sviluppa come vedete in tre macro voci in cui l'amministrazione quindi in un anno investe circa 600 mila euro in manutenzione del patrimonio arboreo diviso chiaramente tra tagli potature manutenzione di fioriere 80 mila euro per le VTA che sono quelle valutazioni anche strumentali che vengono fatte su quelle alberature ad alto rischio per capire quale intervento poter portare avanti su quelle alberature nuove piantumazioni e una parte anche di arredi urbane attrezzature ludiche che comunque anche se non sono alberature e siepi chiaramente fanno parte di quelle aree a verde che il cittadino vive ogni giorno a questo si sono nello scorso anno e completate quest'anno portate avanti due interventi importanti di innesto di nuove alberature grazie a finanziamenti regionali uno che è il carbon neutral che appunto si è diviso fra alberature e cespugli e la forestazione urbana che invece si è concentrata sull'innesto di alberi d'alto fusto ma di quelli di misura piccola proprio per caratteristica del bando per aree più vaste e individuate soprattutto nelle zone industriali quindi per dare un ampio respiro di verde nelle aree industriali infatti per noi è stato importante perché siamo riusciti a piantare 1800 alberature nella zona del terrafino quindi un buon risultato su una zona industriale che non aveva così tanti spazi verdi a disposizione sì quelli si aggiungono sì agli 8 no questi sono in più agli 8000 censiti perché sì 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 no no gli 8000 sono il censimento come conclusione del censimento e che è alla base anche del del terzo volume di cui è stato parlato prima quindi se andate a vedere i risultati in termini economici nel risultato del patrimonio arboreo lì troverete 8000 perché a un certo punto ci dovevamo fermare altrimenti non si non si trovava mai un punto di chiusura queste sono sono state impiantumate successivamente quindi oggi nel nel sistema informatico li trovate e quindi siamo arrivati a 10.000 alberature in più diciamo alle 8000 censite ci tengo a sottolineare l'ultimo aspetto riportato in fondo all'immagine che è quello dell'approccio cioè questo piano questo patto del verde non ha cambiato solo il modo di fare manutenzione e di considerare le aree a verde del patrimonio comunale come aree diciamo da seguire e da monitorare continuamente e costantemente ma ha cambiato anche l'approccio in termini di appalti pubblici perché laddove andiamo a realizzare una nuova infrastruttura una nuova rete stradale una rotatoria piuttosto che una pista ciclabile o anche un giardino di una scuola ecco oggi l'ufficio chiaramente ha uno strumento da poter consultare e da poter utilizzare per fare la scelta più giusta nella trattazione e nella progettazione del verde quindi quando l'assessore diceva appunto che è un patto per il verde che unisce i vari settori del comune ed è multidisciplinare è esattamente così perché questo patto del verde ha cambiato e sta cambiando approccio dal punto di vista di lavori pubblici opere pubbliche dal punto di vista della manutenzione del verde ma anche poi nell'edilizia scolastica nell'edilizia pubblica e privata del territorio ho finito il tempo quindi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti